Giacomo, Giacomo, sempre con lo smartphone in mano e direi che non sei più un ragazzino. Ma cosa avrai da guardare poi? Ecco, bravo, sei riuscito a fare ingelosire Emma. Ma? Tranquilla, tuo marito non ha niente da nascondere. È che da quando ha sottoscritto il contratto online di Estra per l'elettricità, tiene tutto sotto controllo da app e area clienti. Perché Economy Web Luce di Estra è fatta proprio per semplificarti la vita. Sentite qua. Innanzitutto è conveniente. Hai il prezzo più basso possibile bloccato e garantito. Puoi controllare le fatture e l'andamento dei consumi direttamente da app e area clienti. Poi è comoda. Ti evita le file per pagare le bollette. E in più hai la sicurezza di rispettare sempre le scadenze grazie all'addebito diretto su conto corrente. Dai Giacomo, rilassati ora che è tutto sotto controllo. Devi solo dire... Cheese! Con Estra. Il futuro è oggi.